Oggetto numero 7 interroga il Consigliere Bettarelli, ora risponde per conto dell'Assessore Coletto l'Assessore Fioroni. Prego Consigliere Bettarelli. Grazie. L'interrogazione ha per oggetto la riorganizzazione e il piano di efficientamento dei laboratori analisi che in realtà con le attuali metodologie ormai, e secondo quelle che sono tutte le prassi, più che i laboratori analisi si parla di medicina di laboratorio per la pluridisciplinarità, per tutto quello che è una componente fondamentale in ottica di diagnostica, terapeutica, che supportano l'erogazione di servizi essenziali. Questa interrogazione è appunto lo scopo di capire meglio, a seguito di alcuni atti della Giunta regionale, quale sarà il futuro e come sarà la riorganizzazione del sistema dei laboratori. In particolare faccio riferimento ovviamente al piano sanitario regionale, faccio riferimento alla DGR 510 del 2022, riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi della Regione Umbria, e alla DGR 1024, sempre del 2022, appunto contenente le determinazioni relative al piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2022-2024. Come detto, i laboratori sono ovviamente uno snodo fondamentale, sono un servizio importante per l'utente, per il cittadino, è utile, molto probabilmente utile, una razionalizzazione, una riorganizzazione. Quello che chiedo appunto con questa interrogazione è capire come questa riorganizzazione avverrà, nel senso che è evidente che coinvolge oltre che tutta una serie di professionisti che sono medici, biologi, chimici, ma tecnici di laboratorio che eseguono appunto il loro lavoro in maniera seria e coscienziosa, va a interagire con tutti gli operatori del mondo sanitario e ovviamente con tutti i cittadini, pazienti che di questi esami hanno la necessità di dover fruire. È evidente che quello che interessa all'utente cittadino è in prima battuta l'esecuzione dell'esame, quindi ovviamente deve avvenire in prossimità di chi va a effettuare l'esame stesso e poi capire appunto come verrà effettuata, in quali luoghi e con quali strumentazioni avverranno le modalità diagnostiche. I sistemi, i laboratori nella nostra regione ovviamente non sto ad elencarli, sono molteplici. Quello che mi interessa sapere appunto con questa interrogazione, poi mi lascio eventualmente qualche secondo in più per la replica in base a quali saranno le risposte, appunto è sapere, conoscere i contenuti del modello di attuazione della riorganizzazione dei laboratori di cui ha l'allegato 1 della DGR 510, la cui elaborazione è stata demandata a direttori delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie. E più in generale, quale sarà il destino dei laboratori di analisi interni ai presidi ospedalieri Umbri alla luce della politica sanitaria della giunta regionale. Assessore Fioroni, prego. Il servizio sanitario Umbri presenta alcune criticità strutturali causate dalla inappropriatezza di alcune prestazioni che non sempre rispettano gli standard e parametri ministeriali di qualità e sicurezza delle cure. Tale situazione determina ripercussioni negative sull'equilibrio economico del sistema, raggiunto negli ultimi anni essenzialmente attraverso l'utilizzo di poste straordinarie. Pertanto sia il DDL recante piano sanitario regionale 2022-2025, attualmente all'isame dell'Assemblea Legislativa, sia il più recente piano di efficientamento e riqualificazione dell'SSR approvato con DGR 2024-2022, hanno individuato nella riorganizzazione delle reti cliniche e dei servizi uno degli strumenti attraverso cui rendere l'organizzazione dei servizi al cittadino più appropriata, ma anche maggiormente sicura di qualità, realizzando altresì una consistente mitigazione della spesa sanitaria. Nello specifico, nelle more dei liter di adozione del nuovo PSR, alcuni professionisti incaricati di elaborare una proposta di revisione della rete dei servizi di diagnostica di laboratorio, in basso ai criteri agli standard previsti dal Decreto Ministeriale 70-2015, ma coerente altresì con l'assetto viario ed onografico del territorio, rispetto alla situazione attualmente assistente, hanno rilevato una notevole parcellizzazione della rete regionale dei servizi di diagnostica di laboratorio con centri diagnostici SPOC, di strutture ospedaliere con un numero limitato di dimissioni, significative duplicazioni nella tipologia di Siam e anche in centri prossimi al Centro Am di secondo livello, una disomogenea distribuzione dei cittadini e residenti rispetto alla dotazione tecnologica della mission dei centri hub di primo e secondo livello. Il modello organizzativo elaborato dai professionisti individuati dalla Direzione Salute e Welfare e approvato dal DGR 510-2022 prevede laboratorio presso numero due centri hub individuati nei due DEA di secondo livello che eseguiranno altresì tutte le tipologie di prestazioni sia per i pazienti interni sia per l'utenza esterna dei territori di riferimento non servite ad apposti centri SPOC, incluse le prestazioni di alta specialità, laboratorio presso numero 5 centri SPOC individuati nei 5 DEA di primo livello che seguiranno tutte le tipologie di prestazioni e esclusione di quelle di alta specialità sia per i pazienti interni sia per l'utenza esterna del territorio di riferimento, laboratori collocati nei restanti presidi ospedalieri regionali che seguiranno esami a risposta rapida a bassa complessità, cosiddetti POCT. Con il medesimo atto l'aggiunta da un mandato congiunto alle due aziende ospedaliere regionali di elaborare in collaborazione con le due aziende sanitarie e territoriali la proposta di attuazione del relativo modello organizzativo e inclusa l'individuazione delle branche specialistiche di esclusiva competenza di centri A a 20 o 30 giorni dalla notifica dell'azzo. La riorganizzazione della rete dei laboratori è stata prevista nella mappa degli interventi contemplati dalla richiamata di GR 2024-2022 con effetti attesi sia di sistema che sulla spesa. In merito alla specifica domanda, le aziende hanno avviato i lavori per la definizione del modello organizzativo e per definire le attività specialistiche e quelle di base, nonché ad effettuare ulteriori valutazioni relative all'organizzazione dei trasporti e alla determinazione delle ricadute degli interventi in termini di apparecchiature e personale addetto. È stata di recente convocata una riunione presso la Direzione Ragionale Salute e Welfare per analizzare quanto trasmesso dall'azienda e definire il modello organizzativo definitivo con individuazione della tipologia di esami da eseguire presso i laboratori individuati in base alla loro tipologia, le modalità di trasporto e le tariffe da applicare. Entro l'anno 2022 sarà deliberata la riorganizzazione complessiva completa con modalità di trasporto e tariffe da applicare, mentre si conferma che le linee di indirizzo organizzative restano quelle dettate dalla DGR 510 2022, che prevede laboratori presso due centri app individuate di idea di secondo livello dei laboratori, laboratori presso numero 5 centri SPOC individuate di 5 idea di primo livello, esecuzione di esami a risposta rapida e bassa complessità nelle strutture che hanno questa funzione. È evidente che la riorganizzazione dei laboratori è in linea con la riorganizzazione di tutta la rete ospedaliere, compresa la rete emergenza e urgenza e la riorganizzazione della rete territoriale. È altresì importante ricordare che la riorganizzazione della rete dei laboratori rende efficienza, efficacia e sicurezza al sistema, senza peraltro impattare sull'accessibilità del cittadino ai servizi in quanto i punti prelievi avranno sempre una distribuzione capillare. Il cittadino potrà prenotare il prelievo presso i punti prelievo e i test e richiesti saranno analizzati nei laboratori della rete così come individuate per gli specifici analisi e il cittadino per le specifici analisi scaricherà il suo referto per le modalità online già in essere. Tali referti saranno anche disponibili nella FSE nel rispetto della normativa specifica. Grazie per la completezza e la chiarezza dell'intervento dell'assessore Fioroni nella fatispecie che ovviamente si è fatto tramite per l'intera giunta e per l'assessore Colette in particolare. Quindi in buona sostanza la definizione è piuttosto chiara. Ci saranno due laboratori hub che localizzati a Ternia, Perugia, quindi nelle aziende ospedaliere in cui faranno riferimento sostanzialmente gli esami che ovviamente non sono di riferimento di un'idea di primo livello nei 5 SPOC, quindi sostanzialmente le aziende ospedaliere saranno i punti nevralgici del territorio. Quindi il territoriale, l'ASL, conferisce sostanzialmente presso l'azienda ospedaliera i campioni che verranno poi lì analizzati. Per quello che ne capisco io mi sembra una riorganizzazione a metà, nel senso che ci sono modelli riorganizzativi in cui si centralizza e si fa tutto lì sostanzialmente in un luogo terzo, penso alla vicina Pieve-Sestina-Cesena in cui un milione di abitanti conferiscono in un unico laboratorio, terzo nel senso che non è ASL, non è azienda ospedaliera, e lì fanno da riferimento. Mi sembra una, come dire, una riorganizzazione per quello che ne capisco, per quello che ho avuto modo di ascoltare, dalle parole molto chiare insomma che sono state lette, una riorganizzazione a metà, per cui si lasciano due laboratori hub, due laboratori centrali, si lasciano per le, come dire, per analisi laboratoriali di un altro livello, un'idea di primo livello e si dice che comunque non ci saranno disservizi per i cittadini che giustamente potranno effettuare i prelievi così come avveniva. Da capire ora quali sono i costi, benefici, su questo magari vorrei anche avere la parte scritta e poi farò anche eventualmente un accesso atti per avere tutte le relazioni che hanno prodotto i tecnici, gli uffici, per arrivare a questa definizione perché credo che comunque vada mediata giustamente al di là del cittadino che deve avere sempre comunque la comodità, la semplicità nell'effettuare il prelievo, vorrei capire quali sono le analisi costi e benefici che sono stati fatti rispetto allo spostamento di determinate provette, campioni e analisi che vengono effettuati portandoli quindi a Perugia e a Terni rispetto ad un modello organizzativo invece che poteva essere e potrebbe essere diverso. Quindi già annuncio insomma che farò seguito anche a questa interrogazione con un accesso atti per avere tutte le relazioni che hanno portato a questa decisione. Grazie. Oggetto numero 8, interroga il Consiglio Bianconi, risponde per l'assessore Coletto sempre l'assessore Fioroli. Prego. Grazie, grazie Presidente. Questa interrogazione ha un titolo che riguarda i rischi di una non adeguata assistenza sanitaria e pronto soccorso per intere aree dell'Umbria, connesse al cosiddetto efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale. Gli Umbri hanno paura, hanno paura per la loro salute. Credo che sia chiaro a tutti che l'offerta sanitaria a disposizione degli Umbri in questo momento è la peggiore della storia. Questo è un fatto. Si susseguono manifestazioni ormai da oltre un anno e quando anche noi della minoranza andiamo in piazza siamo, e mi è capitato anche il 22 ottobre, ero in piazza 4 novembre, insultati perché ci dicono che non facciamo abbastanza per far capire quanto voi, che siete al governo, state sbagliando. E noi cerchiamo di far capire che abbiamo soltanto un luogo che è quest'Aula, dove rappresentare il nostro dissenso, dove rappresentare le nostre proposte. Io da due anni contesto il metodo con il quale questo piano sanitario è stato progettato. È mancato il confronto, è mancata la partecipazione, ci si è chiusi dentro le segrete stanze ed in pochi si è cercata la formula magica. La proposta che presentate non funziona, ne siete consapevoli voi, ne sono consapevoli gli Umbri. Occorrerebbe un po' di umiltà, fermarsi ora se è ancora in tempo, rimetterla in discussione e cercare di perseguire il bene di tutta la regione. Avete vinto le lezioni al grido liberiamo l'Umbria. Vi siete fatti occupare la sanità, quindi adesso vi chiediamo, liberate la sanità. Questo è il momento di liberare la sanità e di costruire un modello che funzioni, che funzioni meglio di quello attuale. Quello di prima aveva problemi, aveva necessità di profonde revisioni, era difficile fare peggio, sembra che ci stiate riuscendo. Quando parliamo di una sanità pubblica per tutti e in tutto il territorio regionale, in quest'Aula siamo tutti d'accordo, non c'è qualcuno, nemmeno della maggioranza dei consiglieri che ho mai sentito dirgli di non essere d'accordo, ma a questo va dato corpo, a questo va dato un seguito, altrimenti sono slogan privi di sostanza. Questa interrogazione riguarda poi nello specifico le aree più marginali e territori che sembra che da questa proposta sanitaria siano totalmente spogliati anche del minimo rispetto per la salute, dal primo soccorso al pronto soccorso. Poi alcune cose sono addirittura in contrasto con dei libere a maggioranza condivise in quest'Aula, come con la mia mozione trasformata con dei vostri emendamenti in risoluzione votata il 13 luglio del 2021, in cui si parlava di un ripristino ad esempio della pianta organica dell'ospedale di Norcia ante sisma del primo soccorso, ma poi quando andiamo a leggere questo piano sanitario ci troviamo di fronte a delle interpretazioni che spaventano le comunità locali. Questo vale per la Valnerina, vale per il comprensorio dell'agrotrasimeno, vale per l'ospedale di Spoleto e per molte altre aree. Le persone hanno paura, questo è il termine, e hanno maggior paura. Le persone più anziane e quelle che non hanno le risorse per potersi permettere la sanità privata, una sanità contro la quale io non ho niente, ma una sanità che deve essere una scelta per chi se la può permettere. Gli altri, come recita la nostra Costituzione e il nostro Statuto regionale, dovrebbero avere altre risposte. Al tal riguardo, quindi vado a porre l'interrogazione, nello specifico di questo mio atto, che chieda alla Giunta, se presto gli ospedali di Norcia, di Cascia, di Spoleto, di Passignano, Trevi e Castiglion del Lago saranno presenti pronto soccorso, strutture di emergenza e urgenza in loco e altri ambulatori specialistici, oltre alla semplice degenza, chiarendo altresì anche alla luce delle precedenti dichiarazioni all'impegno formale ricevuto dall'Assemblea legislativa, a cui ho fatto riferimento poc'anzi, se quando presto l'ospedale di Norcia verrà realizzato il pronto soccorso, ripristinati i servizi territoriali e tutti gli ambulatori specialistici presenti ante sisma. Per chi non sapesse, faccio un refresh, cosa intende il piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale quando si parla di ospedale di comunità, che è quello che si vuole a volte un po' camuffare come un ospedale normale, che prevede un'assistenza infermieristica 24 ore su 24, prevede però un'assistenza medica per almeno 4 ore al giorno, 4 ore al giorno, 6 giorni alla settimana e il resto su chiamata. E questa è la risposta che per esempio in un'area come quella della Valnerina si dovrebbe dare. Sono nello sporamento dei tempi che hanno fatto tutte le interrogazioni che mi hanno preceduto, ho visto quella di Mancine che ha sforato di 7-8 minuti, quindi voglio essere... No, allora no, mi fermo, voglio fermarvi qui e chiedo, cari colleghi, a tutti voi un impegno per gli Umbri prima di tutto. Grazie. Risponde l'assessore Fioroni. La direzione regionale Salute e Welfare sta procedendo con la revisione della rete dell'emergenza urgenza con ridefinizione delle sedi di pronto soccorso, delle postazioni di 118 medicalizzate e non della cura e del soccorso regionale. Tale revisione parte dall'analisi di contesto con le criticità emergenti e mira a definire una rete di emergenza urgenza che, allinata agli standard del Decreto Ministeriale del 70 del 2015 e alle caratteristiche del territorio umbro, dia sicurezza al sistema e garanzia di intervento efficace e tempestivo con centralizzazioni delle casistiche in relazione al bisogno clinico assistenziale nelle sedi appropriate. Certanto, in merito alle interrogazioni del Consigliere Bianconi, gli ospedali di Cascia Passignale Trevi, essendo ospedali riabilitativi già classificati così dalla DGR 211 del 2016 con un'unità operativa di riabilitazione, sono ospedali post-acuti, nei quali non è prevista la sede di pronto soccorso e manterranno le attività riabilitative ora presenti negli stessi. L'ospedale di Spoleto è e resta sede di idea di primo livello e quindi tra l'altro mantiene la sede del pronto soccorso. I standard richiamati di bacino di utenza e gli accessi anni appropriati di M70 non sono soddisfatti, in particolare gli accessi negli anni sono inferiori ai 25.000, ma tenendo in considerazione l'orografia del territorio, considerando anche la dignitrofa valnerina e la percorrenza dalle aree dalla valnerina verso le altre idee, in particolare quelli di secondo livello, la programmazione regionale della rete emergente d'urgenza prevede di mantenere tale sede di pronto soccorso. La configurazione dell'attività di ricovero di specialistica bollateriale saranno conformi a quelle del DEA di primo livello e integrate con quelle di Foligno. Come detto nel piano di efficientamento si definisce la costituzione di un polo unico funzionale, sede di DEA di primo livello, su due sedi ospedaliere, ognuna delle quali con specifica vocazione ed eccellenza. Presso l'ospedale di Foligno potrebbero concentrarsi tutte le prestazioni di emergente urgenza, mentre presso l'ospedale di Spoleto l'esecuzione di tutta l'attività programmata, potendo prevedere anche l'implementazione di ulteriori progetti assistenziali finalizzati a valorizzare l'attività assistenziale del territorio dell'intera regione. L'ospedale di Castiglione del Lago è oggi teoricamente configurato come ospedale con serie di pronto soccorso e per questo dovrebbe avere per gli standard un bacino di utenza compreso fra 80.000 e 150.000 abitanti, un tempo di percorrenza maggiore di un'ora dal centro dell'abitato al DEA di riferimento e un numero di accessi anno appropriato in superiore a 20.000 unità. Tutti i parametri non presenti a titolo di esempio, gli accessi del 2001 sono pari a 8.917. Inoltre dal punto di vista dei ricoveri i dati dimostrano che la struttura opera per lo più come ospedale per post-acuti. L'ospedale infatti aveva una produzione ospedaliera pari a 2.126 ricoveri nel 2019, passata a 1.447 nel 2020, 1.246 nel 2021 e 586 nel primo semestre del 2022. Con un numero di posti letti pare 40 ma con un utilizzo medio inferiore ai 34 posti letto. C'erano stato in corso una riclassificazione conseguente alla DGR di razionalizzazione e di rilancio della rete ospedale regionale per ridisegnare la rete sanitaria del Trasimeneo che possa vedere l'ospedale di Castiglione del Lago valorizzato in ottica funzionale alla rete regionale e territoriale tenuto conto anche delle specificità del territorio, vocazione turistica, mobilità potenziale verso altre regioni e logistica. Tale riflessione sarà come in tutta la regione condivisa con i territori prima dei progettamenti attuativi. Si specifica infine con l'occasione che è in corso della revisione della rete emergenza urgenta che dovrà garantire su tutto il territorio regionale tempestività e sicurezza all'intervento grazie anche all'attivazione dell'elice al corso regionale. Per ospedale di Norcia è prevista la ricostruzione post-sismica per il quale è previsto un finanziamento specifico con il piano di efficientamento di cui è la DGR 1024 nel 510-2022. Per la sede di Norcia è prevista la conversione in case comunità ed ospedale di comunità con fondi PNRR in aggiunta a quelli già stanziati per la ricostruzione post-sismica. La ricostruzione vedrà al primo piano la realizzazione della struttura ospedaliera con 20 posti detto. Al piano terra la realizzazione della casa della comunità che potrà essere aperta fino a 24 ore su 24, 7 giorni su 37 e rappresenta il luogo fisico e di facile individuazione ai quali i cittadini possono accedere per i bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Rappresentano il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione nella quale saranno ripristinati tutti i servizi dell'assistenza distruttuale presenti prima del sisma, comprese l'attività di specialistica ambulatoriale. Per quanto attiene alla rete di emergenza urgenza, vale quanto già detto per l'ospedale di Castiglione del Lago. Grazie Vicepresidente Bettarelli, ringrazio l'assessore Fioroni per aver letto le parole dell'assessore Coletto che continua per certi versi a sfuggire anche da una visita in loco che serve per capire territori marginali come quello dal quale vengo io. Rispetto al primo soccorso informo questa assemblea legislativa e non è la prima volta che lo faccio che in Valnerina c'è per tutta la Valnerina un medico sull'ambulanza sul 118, quindi vuol dire che se c'è quell'ambulanza parte e va a Foligno, almeno a Foligno se non a Perugia che ormai è l'unico ospedale rimasta in questa regione, tutto il territorio rimane scoperto per almeno 5 o 6 ore. Quindi l'ambulanza successiva parte senza medico. Pochi giorni fa, purtroppo, una donna in attesa all'ottavo mese ha perso suo figlio e il battito cardiaco fino all'ospedale di Spoleto era funzionante, ma l'ospedale di Spoleto non era in grado di dare risposte e sono dovuti arrivare all'ospedale di Foligno, dove purtroppo quel battito non c'era più. Anziani del mio territorio, come quello delle altre aree marginali, rinunciano a curarsi perché quando prendono 600 euro di pensione e hanno magari un figlio che prende 1200 euro e devono andare a fare una visita a 100 km da casa loro e è inspiegabile perché spesso andiamo a fare delle verifiche nel nostro ospedale e lì non c'è nessuno in fila, non ci vanno e non si curano. Se poi parliamo del mondo economico, quello del turismo, chiave sviluppo del nostro territorio, vi informo qualora non lo sapeste che il tour operator importanti del mondo, gruppi sportivi ed altri, fanno una verifica dell'offerta sanitaria locale perché rispondono direttamente dell'assenza di servizi idonei dati ai loro clienti e se ce li mandano in questi luoghi e sanno di non essere all'altezza di un'offerta dignitosa, si devono far firmare prima delle liberatorie per non essere perseguiti per legge. Questo signori è un tema, io sono contento che per Assisi, polo principale turistico di questa regione, sia stata trovata una risposta adeguata. Il problema non riguarda soltanto Assisi, che è il faro di questa regione, ma riguarda anche altri territori, non riguarda soltanto l'economia, ma riguarda anche chi ci vive, perché come non ci verranno alcune persone a fare vacanza, se ne andranno quelli che hanno paura di lasciarci le penne. Grazie. Grazie.